Belgio, Spa-Francorchamps per il secondo round dell'Euro Formula Open 2017, sessione di qualifica del mattino, discusatasi con il sole che ha scaldato la pista fino a 23 gradi, condizioni inusuali per il Belgio che ci hanno regalato una qualifica entusiasmante, l'inquadrato a Meia Vadianatan, autore del secondo, miglior tempo dopo aver svettato nella prima parte della sessione in 2.13.321, la pole position che sarà andata poi nelle mani di Harrison Scott, mentre l'inquadrato Nikita Trojitski in terza posizione aveva dato filo da torcere ai rivali, il russo del Drivex Spool e dell'SMP Racing è anche il migliore dei debuttanti e aprirà la seconda fila con al fianco l'italo-canadese Delvin De Francesco, seconda pole position stagionale per il leader di campionato, l'inglese Harrison Scott, l'inglese era stato autore del miglior tempo di 2.13.023 che gli è stato poi annullato per il track limit ma il tempo di 2.13.220 permette comunque all'altiere di RP Motorsport di partire davanti a tutti. Unico italiano iscritto Lodovico Laurini, 14esimo con RP Motorsport, mentre 17esima posizione per Danilo Prodenco di BWM Racing.